È la giornata della rinascita e della rivincita per Giuliana Lafilippe, perché oggi ha fatto un numero da assoluto fuoriclasse, tantissimi addetti ai lavori, tantissimi appassionati avevano già cominciato il tiro al bersaglio, l'avevano criticato, avevano già un po' scaricato quello che rimane un fuoriclasse assoluto del ciclismo e di cui il ciclismo ha bisogno per la sua spettacolarità, perché in tanti si dimenticano quello che ha fatto la Filippe fino a pochissimi anni fa, bicampione del mondo, quello che ha vinto dalla Milano Sanremo, soltanto per dirne una, a quello che fece in quel meraviglioso Tour de France 2019, poi vinto da Bernardo in cui vestì la maglia gialla fino a due tappe dalla conclusione. In tanti si dimenticano quello che ha fatto Giuliana Lafilippe, oggi con voce perentoria e con un'affermazione da assoluto campione, da assoluto fuoriclasse, ci ricorda a tutti che ha passatosi dei momenti difficili, ha passatosi degli anni piuttosto complicati, ma Giuliana Lafilippe rimane un corridore eccezionale, tanti stavano perdendo le speranze di trovarlo ad alto livello, oggi in questo Giro d'Italia ci aveva già provato altre volte, oggi parte a 140 km dalla fine in solitaria insieme a maestri, in tanti avevano già definito azzardata questa ipotesi di Lafilippe di partire così da lontano, sembrava incauto, sembrava quasi folle, Lafilippe l'ha portata fino in fondo, l'ha portata fino in fondo alla grandissima rimanendo insieme soltanto a Mirko Maestri e poi da solo, partendo sul Monte Giove con l'attacco decisivo sull'ultimo muro, sulle pendenze quasi al 20%, staccando tutti e quindi dopo 140 km di fuga potendo alzare le braccia al cielo per una sua liberazione personale in quel di Fano, perché insomma è davvero una liberazione personale, è davvero una rinascita, è davvero una rivincita che mette a tacere tantissime critiche che gliene erano arrivate e che appunto nuovamente ci dà la dimensione di che corridore sia Giuliano Lafilippe, perché la memoria è corta, adesso con quello che stanno facendo i vari Pogacar, Wingegaard, Van der Poel, Van Aert e Venepoel e compagnia ci dimentichiamo della portata del corridore che è Giuliano Lafilippe, insomma lui ce l'ha ricordato quello che è capace di fare, perché non si vincono tre frecce a vallone a casa, non si vincono, non si vince la Milano Sanremo a casa, non si vince la San Sebastiano a casa, non si vince le Strade Bianche a casa, non si vince due campionati del mondo nella maniera in cui l'ha vinto a lui, uno a Imola e uno nelle Fiandre. Insomma, in Italia aveva anche questo suo conto in sospeso per certi versi, perché l'Italia gli aveva portato fortuna appunto per i campionati del mondo di Imola, per le tre tappe vinte alla Tirena Adriatico, peraltro insomma alcune proprio una Iesi, quindi vicino anche alla località d'arrivo di oggi, è stata incitata fino in fondo e ha portato a casa veramente un risultato fantastico. In una tappa in cui Narvaez poi arriva secondo con un altro gran piazzamento, gli italiani comunque sono andati in generale bene, i maestri che ha fatto la fuga del vincitore morale un po' di questa tappa, essendo rimasto tutti quei chilometri lì insieme dalla Filippe, allo scoperto arriva qui in Toscaroni, bravissimo anche Trentin che arriva sesto, insomma tantissimi italiani si sono resi protagonisti anche nella fuga iniziale, c'era Filippo Ganna per esempio che si è speso anche proprio per Jonathan Narvaez, quindi insomma una tappa comunque che è uscita fuori, bellissima proprio per la conformazione e per le dinamiche di corsa che si sono andate a sviluppare cammin facendo. Una tappa dei muri che insomma era attesa, sapevamo essere spettacolari e così lo è stato. Domani invece ci sarà la volata a 100 in una tappa completamente piatta senza nessun gpm, praticamente senza nessun dislivello da riccione, mentre si tornerà a fare sul serio e sarà una tappa molto interessante quella di sabato, ci sarà la cronometro completamente pianeggiante anche quella a parte qualche piccolo strappo sul tracciato, però insomma la cronometro di Desenzano del Garda sarà praticamente pianeggiante e poi domenica la grande tappa di Vivigno che ci porterà poi con il Mortirolo anche all'interno, il Foscagno che ci porterà poi anche allo spettacolo della terza settimana, insomma che si comincerà con l'arrivo su Santa Cristina, purtroppo non ci sarà l'arrivo in cima allo Stelvio ma comunque sarà una tappa spettacolare comunque perché si arriverà all'Umbrail e quindi mancherà soltanto l'ultimo tratto praticamente dello Stelvio, quindi rimarrà una tappa comunque bellissima con l'arrivo in quota e con tanto dislivello e sarà un'ultima settimana insomma piena di salite anche se insomma vedremo se sarà ancora in discussione la classifica generale in questo momento non lo è, francamente ecco a parte inconvenienti stento a credere che possano riaprirsi i giochi per la vittoria del Giro d'Italia, però la lotta per le posizioni e per il podio è assolutamente aperto. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, non vale anche mi piace al video, buon proseguimento a tutti e ricerci ragazzi nel prossimo video.